Le due facce dei mercati emergenti si passano nel giro di tre mesi dal considerarli estremamente cari fino a ritenerli oggi fin troppo sottovalutati. Qual è il vostro punto di vista e quali le vostre aspettative? Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per questa domanda, che è una domanda abbastanza articolata, in quanto se da un lato i dati macroeconomici ci fanno essere cauti, essenzialmente la situazione in molti paesi emergenti è ancora poco chiara, dall'altro le notizie che provengono dal lato delle politiche monetarie sono contrastanti, tutti si attendevano il tapering negli Stati Uniti, quindi una riduzione, un allentamento della spinta monetaria da parte della Fed e notizia di qualche giorno fa che questa decisione è stata rimandata. Questo non vuol dire che probabilmente la Fed continuerà con la stessa forza a immettere liquidità nel mercato, lo farà un po' di meno e quindi di conseguenza il funding in dollari sarà più caro e di conseguenza investire anche nei paesi emergenti cercando carry sarà più complicato. Quindi diciamo notizie contrastanti, noi tendenzialmente favoriamo quei paesi emergenti che hanno una bilancia di pagamenti positiva, quindi il surplus, la Cina, la Corea, piuttosto che l'Indonesia o Taiwan, siamo molto più cauti su quelli che invece hanno difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti. Brasile, Turchia, piuttosto che la stessa Russia da un certo punto di vista è un punto di domanda. Quindi quello che pensiamo è che entrare oggi nei paesi emergenti, Tukur, sia forse un po' prematuro e bisogna essere un po' più selettivi. La Cina negli ultimi mesi è passata un po' in sordina, dobbiamo aspettarci delle sorprese e se sì di che tipo? Torniamo al punto che ho aperto prima, ovvero la situazione macroeconomica. Noi siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere una crescita economica in Cina anche a due cifre, sicuramente straordinaria. Era inevitabile che crescendo l'infrastruttura del mercato cinese anche questa crescita piano piano si mitigasse. Questo non vuol dire che la Cina abbia cambiato il suo ruolo di mercato trainante per il futuro dei mercati internazionali. È un mercato fondamentale e noi abbiamo un approccio un po' diverso, nel senso che negli ultimi tempi bastava comprare l'indice Hansen, se effettivamente i dati macroeconomici venivano rispettati era probabile a ottenere performance a due cifre. Noi fin dall'inizio abbiamo invece avuto un approccio innovativo, ovvero abbiamo una società basata a Hong Kong che fa parte del gruppo, creata nel 1998, quindi parliamo di ben prima dello scoppio delle volle anche più lontane, che si focalizza nel selezionare piccole e medie aziende ancora poco conosciute, non ancora esplose, non ancora fiorite, con un approccio value, quindi molto attento ai bilanci, molto attento all'analisi della gestione stessa dell'azienda. Una volta il gestore fece una battuta che mi piace riportare, dice entro in questa società che fa export e mi parlano dei loro prospect sull'anno, meravigliosi, poi guardo l'imballaggio dei loro prodotti nel cortile e mi rendo conto che è ingiallito, quindi non c'era molto scambio e sono stato un po' perplesso rispetto a quello che mi era stato detto. Quindi voglio riassumere, il mercato cinese oggi comincia a essere più maturo rispetto a qualche anno fa ed è importante approcciarlo in maniera un po' diversa, quindi non si può prendere tutto e fare di tutta l'erba un faccio, ma bisogna essere molto più selettivi. Quale impatto avranno i risultati delle recenti elezioni tedesche sui paesi periferici dell'Eurozona e come li state gestendo? Viene ripetuto da tutti i media come mantra che è importante oggi la stabilità. Veniamo da un biennio dove l'Europa ha pagato un prezzo molto caro, soprattutto vis-à-vis agli investitori internazionali che sono rimasti un po' scottati dei continui cambi di potere, di politica nell'Europa continentale, soprattutto nei paesi periferici, pensiamo alla Grecia quante volte ha dovuto fare le elezioni prima di trovare un po' di stabilità, la stessa Italia, per cui è sicuramente un messaggio positivo quello che viene dalla Germania. Continuità, una cancelliera che oramai è conosciuta in quattro angoli del mondo, che è rispettata, che è sicuramente considerata in modo positivo dagli investitori internazionali, se questo si accompagnerà anche a una stabilità nel seno del resto dell'Europa dovrebbe essere positivo. Noi stiamo vedendo dei dati macroeconomici incoraggianti nella zona Euro e lo stiamo già dicendo da un po' di tempo, quindi non escluderei che con una maggiore stabilità politica potremmo vedere dei buoni risultati in tutta la zona Euro, direi anche Italia compresa, perché no?